Ieri la manifestazione di Roma che non ha sortito gli effetti desiderati. La marineria è ferma dallo scorso 22 maggio, il prezzo del gasolio è altissimo, tutto ciò si ripercuote sull'intera filiera. Sulle tavole dei ristoranti niente, pesce fresco arriva da fuori e costa molto di più. Situazione insomma insostenibile. Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara. Servono provvedimenti urgenti. Servono provvedimenti urgenti. I prezzi del gasolio hanno messo in crisi un settore importante per la nostra filiera della ristorazione, specialmente per quelli come me, come tanti altri, hanno le attività sulla costa. Le persone sono anche un po' sfiduciate perché non sono convinte se questo prodotto è del posto. Non è del posto il prodotto. Però è fresco. Però è fresco. Viene dalla Gorasi e costa un banco di soldi. Attenzione che fra 45 giorni si riparlerà del fermo tecnico. Ci dobbiamo mettere d'accordo in questo paese. Sta diventando un paese dove ci sta una persona sola al comando. La priorità è ridurre il prezzo del gasolio per permettere ai pescatori di tornare in mare. Per permettere ai pescatori di tornare in mare, di riaprire la filiera e per permettere a noi di fare le... Ma se noi andiamo in tutti i luoghi, vai in un posto, vai a chiedere una frittura, se una frittura costava X, oggi ne costa X più Y, non diventa un problema. Senza considerare che si viene da due anni di dura pandemia, no? Da due anni di dura pandemia, da grandi sacrifici che abbiamo, li abbiamo superati dignitosamente. Abbiamo ripreso l'attività, si vede che c'è una ripresa, c'è voglia di venire al mare, i nostri liti sono pieni. Poi dopo di fronte a una questione di prezzi diventa un po' difficile. Presidente Draghi, sia attivi e pensi, esca dal palazzo ovattato di gioielli e oro e vado in strada, vado a sentire un po' anche le persone. Non è giusto che hanno preso a manganellati i pescatori perché sono andati a far parlare un loro diritto. Facciamo un esempio pratico. Prima, in questo ristorante, quanto costava la frittura? Quanto costa oggi? La frittura costava l'altro anno 8, massimo 9 euro. Adesso una frittura è meno di 12-13 euro, non lo possiamo portare al tavolo. Non ci dimentichiamo che due mesi fa l'olio di semi gerasoli da 1,20 euro al litro ne costa 4. Quindi rendemici conto che sta succedendo in questo paese. E tutto parte dalla speculazione energetica. L'ha detto Cingolani un mese e mezzo fa. Poi non l'hanno intervistato più ma altrimenti gli hanno messo il tappo perché non poteva dire effettivamente quello che sta succedendo. Non c'entra niente l'Ucraina, non c'entra niente la pandemia, per quale motivo sta accisa da essere a cuciate per l'Italia? Sta accisa la gente.